Salve, vedi che vedi chi sono io? Senza gli occhiali manca il cappellino, su quello che diceva Cavavino, è buono, ma lo sai gli spettacoli di atraso, qualcuno forse mi conosce se mi hanno dato una tessera, e ti sono socio onorario, e sono onorato di essere onorario, ma non c'ho nessun onorario, nel senso che no, non ho amato perché, però io sono gli alberi di l'alberia, è un bello fatto, sono 480 persone che si uniscono a quegli spettacoli, e poi se ti interessa voi cercate, ma fanno un cerchio su internet, la cosa sicuramente non lo fate a vedere tra l'Italia, e se state con questa realtà ogni tanto, potete venire anche ai miei spettacoli, ciao!